raga vado a più a me ammiraglietta pure io pure io raga se ha dormito il dito ne la faccio a spingirlo minaccia adria stanno andando stare oh raga venite qua raga vado a me la taglia negata il mistero quello il basso è 83 metri la dovesse la dovesse no io non ce l'ho più raga vado a me non ho finito vado a go entra 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 dai raga un team da tre e poi due due contro due metti i corazzi metti i corazzi vado a me non c'è nessuno di sopra ma cosa sento cosa senti vabbè no ma blasco invece da guardare diretti che è un viaggio cazzo noob 2 ma perché muovo a piacotare la due ma perchè muovo a piacotare la due bene gente diamoci da fare contratto aggiornato nuovo obiettivo identificato contratto aggiornato nuovo obiettivo identificato contratto aggiornato nuovo obiettivo identificato che sta nel mio pc attimo c'è il shop qua ma c'è il shop qua ma c'è il shop qua ma non c'è il piallo da auto ci stanno aspettando sono morto sono morto mi sparano mi sparano davvero? dai questa è una munizione l'ho trovato l'auto devo imparare no no prima il negozio c'è un negozio qua mi ricordavo infatti qui c'è un venditore se serve la animazione mi compro pure le piastre eh ma c'è il gamer non ho incontrato nessuno fino adesso ok aspetta a comprare altri ah oppure i tardi non ce sa mai buttateno v buttano v marix vabbè sperameno v lo stavo a favorire guarda la gente che ci sa sono tre qui e tre con un po' po' che veniva pure da destra eh no così ci vedono però si ecco io l'area mi hanno visto ovviamente a terra ovviamente dove 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 morto lì un altro laggiù dietro da quel coso eh l'adri però eh ti ho visto l'adri eh scappato da dietro l'ho visto si ma stiamo troppo in mezzo ragazzi ci vengono da sinistra ci ammazzano usciamoli siamo tre contro due eccolo uno con lo scudo è andato via attenzione bombardamento di precisione alleato in arrivo guardati con lo scudo che era la schiena ma vaffan guardate avete un lancio d'equipaggiamento in arrivo no pia va eh no aspetta che ne vai pia che stanno tutti ma guardi i soldi qui per terra ne hanno presi guardi strano pia guardi tu vaffi alleato in sorbolo avvio scansione radar l'hanno ammazzati ne hanno ammazzati qualcuno passi in arrivo nuova zona sicura contrassegnata vabbè arrivo richiedo ricognizioni aerea qui già 4 0 confermato uno e mezzo qui la strada iniziato eh cru ho visto rientro forzato per fare riposimento ma perchè uff uff risparalo treccato uno uff la terra diviso ho visto uno morto come vorrei io ho sparato addosso vabbè a terra un altro vabbè preso attaccato è qualsiasi attaccato è qualsiasi attaccato è morto oh no e dai ma che mi sa che è morto o se è stato di arrestare mi ho capito ma vaffa mi stava di arrestare io non ci voglio credi l'ho ammazzato ma che ho ammazzato ho visto che si era sdraiato per terra penso che era morto no no oh qua raga in movimento ok ricevuto ho visto ma sta allontano e in modo si deve avvicinare eh non si firma c'è lo sniper eh sta lì sta nemici dell'area a terra quello la contatto uapin nemico in volo morto quanti metri non mi lo dice stanno lì sotto eh nemici dell'area si vabbè oh quello di prima gente qui gente qui vabbè ora che ha c'ho parole c'ho 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 guarda va a scatti ma come fai sparaio qui vedo ci sono confermano questo quando si firmano c'ho 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 vabbè vabbè sta alti sciaperterà non cadente stacuti ma quanti sono? l'utilista? ma raga io sto troppo un campo aperto, non mi piace si però attraversate raga, attraversate, non nemmeno di là 50 meri qua davanti eh sarà tipo là dentro quello è quasi morto, uno qua dietro? no, sono due che c***o che sei arrestato? uuu, stai nel gas, stai nel gas, levati uuu, c'è un altro qui su io, su io, su io no, no, ecco lì è atterrato mamma mia, ho fatto due due colpi, l'ho atterrato uuu, atterra ho preso i colpi ho preso i colpi resisti, devi aver messo rianimata solo lo so ha messo il fumogine aspetta che arrivo è quello che la conoscivo provo a prendere il load out si a terra eh dai l'ho preso in testa ma dai levo scudo a terra l'ho preso dammene botte dammene botte non mi ho fatto da torezzi finito grazie la terra l'ho dovuto due quelli eh ho battito due a terra sono due c'erano c'erano adorazioni c'erano aurezza sicuramente no 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 li a terra a terra a terra a terra non è trato completamente c'erano ottimo lavoro non c'erano c'erano grazie eh io non pt2 rega c'è la conoscenza qua dentro rega proviamoci a farla, mi servono corazze però, ok corazza 1, corazza 2, sta pure da questo mondo, è il stesso piano, però occhio, dice qua, guarda c'è c'è atterrato, ok c'è la forestia, oggi è fatto, fate grazie riserva una rarola, fu questo, c'è noto, c'è mi c'è mi c'è mi c'è mi quanto manca se, ma c'è, mi c'è mi tolta, si è mi è, vado, vado a pml, mi dita, pml, nbc, pure io, pure io. Prima è da dormire ordi o ne la faccio spingirò. ma che burdi venite lì? aspettate che riempie asseria soprattutto vedete se c'è gente dietro qui ma le spara a destra a sinistra minaccia adria eh c'è gente qua nemici nell'area 20 secondi purtroppo c'è la taglia 2 e quindi siamo spottabili stanno andando stane oh ragazzi venite qua venite qua famo il giro, famo il giro, famo il giro eh buona f***a la taglia negata finisilo quello eh buona f***a 83 metri 12 ce lo ripeto l'altro di per terra io ero a quel palo sta a mettere le artine c***o 10 rimasti 16 quasi gassi in arrivo c***o c***o cioè gente là dentro o muove vicine c***o c***o è qua dentro eh ancora con tu sin posizionamento la tua stessa zona sicura entra 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 la rica un team da tre tu contro due metti i corazzi quanto non ce l'abbiamo qua il posizionamento 6 metri sopra stanno c'è la sopra 5 metri e 6 se c'è la sopra è fatta oh non muoviamo oh let's go oh non muoviamo regà non muoviamo regà ti montate forti mi fanno addosso dai blasco date vista in diretta blasco bella